Ciao, mi chiamo Matteo, sono studente laureando presso l'Università Cattolica di Milano, al secondo anno del corso di Management per l'Impresa. La fin da subito dell'Università mi ha dato dal punto di vista accademico e professionale quello che io speravo che potesse darmi quando mi sono iscritto, ovvero la possibilità di personalizzare il mio piano di studi, quindi scegliendo le mie materie, e mi ha dato anche dal punto di vista umano e dal punto di vista sociale la possibilità di stringere e di sviluppare delle relazioni importanti con colleghi studenti, con i professori e con altre personalità dell'Università. Questo senso mi ha dato anche di più di quello che io pensavo che potesse darmi l'Università, ovvero una grande attenzione, una grande formazione non solo accademica, ma anche umana, ma anche etica, alla mia persona per quanto riguarda quello che viene dopo, cioè per il futuro. In questo ambito molto dinamico, secondo me, si inserisce perfettamente l'iniziativa di erogazione delle borse di studio per merito dell'Istituto Toniolo, che è un'iniziativa che è aperta a tutti e permette agli studenti di mettersi in gioco, di farsi valere al fine di ottenere quello che secondo me non è solo un, seppur sostanzioso, sostegno economico, ma anche un momento di realizzazione in cui lo studente, secondo me, prende coscienza di quelle che sono le sue potenzialità e viene in qualche modo premiato. Un meccanismo che secondo me è molto utile non solo dal punto di vista, ripeto, economico in università, che sicuramente è un aspetto presente, ma è un'idea, secondo me, un'iniziativa molto utile anche per capire quello che ci aspetta dopo l'università nel mondo del lavoro per metterci forza di volontà, per metterci impegno in quello che facciamo e quindi è un momento di realizzazione che secondo me è particolarmente meritevole.